La commissaria per gli affari interni dell'Unione Europea, Ilva Johansson, ha lanciato un appello per il silascio di Johan Floderus, un dipendente svedese del corpo diplomatico dell'Unione arrestato in Iran due anni fa. La Svezia, la famiglia di Floderus e i suoi sostenitori sostengono che il 33enne è stato detenuto arbitrariamente. Floderus è stato arrestato nell'aprile 2022 all'aeroporto di Teheran mentre tornava da una vacanza con gli amici. In questi due anni gli sono stati concessi contatti telefonici con la famiglia molto limitati e rarissime visite consolari. L'Iran ha fatto sapere che è stato accusato di spionaggio per Israele e di corruzione sulla terra, un reato punibile con la pena di morte. Floderus è stato sottoposto a un processo che si è concluso il 28 gennaio scorso, ma non è stata stabilita una data per la sentenza. La sua famiglia nega le accuse che il ministro degli esteri svedesi ha definito completamente infondate e false.